Sembrerebbe dovuta alla ruggine la colorazione rossa della sabbia sull'arenile a poche decine di metri dalla marna della Scala dei Turchi. Ad attenzionare il fatto era stata lo scorso lunedì l'associazione ambientalista Maramica Grigento, che aveva pubblicato sui social foto e video sul caso. Le prime analisi dell'ARPA sui campioni di sabbia prelevati dalla Scala dei Turchi avrebbero stabilito la causa del fenomeno. Il materiale che abbiamo trovato è molto composito, spiega il direttore Salvatore Montana, ma nella quasi totalità è ruggine. c'era un quantitativo enorme di ferro. Per avere gli esiti definitivi sono previsti altri quattro giorni di analisi sui campioni nei laboratori. Accertate le cause, bisogna ora capire come quest'enorme quantitativo di ruggine sia finito sulla spiaggia. Tra le ipotesi proposte da Claudio Lombardo, presidente dell'associazione Maramico, rientra la possibilità che il deposito di metalli sulla sabbia sia il frutto di abbondanti piogge che hanno lavato i terreni, oppure, nel peggiore dei casi, del lavaggio di cisterne di navi di passaggio. Spetterà la Capitaneria di Porto, di Porto Empedocle, accertare eventuali responsabilità da parte di chi può avere inquinato l'ambiente. Proprio stamattina si è svolto un sopralluogo tra ARPA, Capitaneria e Amministrazione Comunale di Real Monte. Sono stati effettuati nuovi prelievi di acqua e sabbia. Secondo quanto riportato da altri organi di stampa, il direttore dell'ARPA di Agrigento sembrerebbe essersi fatto un'idea al riguardo. Forse una nave saliera avrà pensato bene di scaricare le stive in mare e le correndi degli ultimi giorni, anziché portare lo scarico a largo, lo hanno trascinato verso la riva. Intanto stamattina sarebbero state trovate altre macchie di ruggine nella zona della Villa Romana, sempre a Real Monte.